salve a tutti e bentornati sul mio canale pronti a continuare questa splendida avventura con kena bridge of spirits come avete visto l'ultima volta ci siamo salutati proprio qui siamo quasi arrivati da russo proprio qui sulla sua montagna perché ci deve aiutare in quanto dobbiamo aiutare taro se ben ricordate quindi dobbiamo trovare le tre reliquie di taro ora quindi mio direi che arrivati da russo ci sarà sicuramente qualche filmato e ci spiegherà come fare più che altro e anche quali sono queste reliquie da trovare affinché riusciamo ad aiutare taro di cui ancora sappiamo ben poco abbiamo visto ecco questo prima giusto quel filmato nel verso la fine del secondo nel secondo episodio ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e andiamo ragazzi andiamo andiamo vediamo un po è un po allora vediamo se c'è da liberare qualche rot credo di sì che sarà usa rot ecco qui no dovevamo solo usare questa perfetto perfetto naturalmente se ben ricordate l'altra volta abbiamo anche potenziato di più le nostre abilità siamo saliti di livello perché abbiamo trovato ulteriori rotte quando giocate se non vi accorgete che c'è qualche rot da liberare il dual sense comunque vibra quindi vi rendete conto se c'è qualcosa nelle vicinanze io come vedete cerco sempre di perlustrare bene la zona per questo le live a volte durano un po di più perché comunque voglio trovarli tutti anche perché voglio finire il gioco al 100% naturalmente se non si riesce in live per varie cose sicuramente ci saranno episodi extra eh non vi preoccupate andiamo ragazzi andiamo allora vediamo un po vediamo un po allora questo qua qua non c'è nulla andiamo ok eccoci qua siamo arrivati si eravamo quasi arrivati infatti già alla fine dell'episodio precedente e gustiamoci il filmato e il russo ti stavamo cercando con kena guardate ragazzi abbiamo portato la nostra amica kena è qui per aiutare taro si vogliamo aiutare taro carissimo russo buonasera e connesso è tutto come sapere adesso il potere della montagna gli alberi qui crescevano forti attingendo la sua energia e la terra un tempo era in perfetto equilibrio ma come tutte le cose il santore della montagna segue un ciclo naturale che il nostro villaggio ha faticato a capire quando il potere del santore di giovanire una devastante carestia colpì il nostro villaggio è vero taro ha perso i suoi genitori e mi è stato lasciato a prendersi cura di ben e saia avrei dovuto fare di più per aiutare taro e ora posso solo stare a guardare mentre il suo spirito si tornava eh lo so, lo so, lo so ebbenevi dare taro ragazzi eh ma ho bisogno di un modo per passare ah quindi una reliquia assurda nella sua casa, quell'arma che porti con te, sento che ha un potere più profondo appartene a mio padre, a mia nostra famiglia da generazione deve essere stato un grande spirito guido eh, vedremo credo di si però sono impotente contro la posizione ma non posso insegnarvi un nuovo modo per combattere va bene ok, arrivasse la maschera eh per un arciario esperto l'arco è semplicemente un'estensione del proprio corpo ok il bastone di uno spirito guida non è diverso vediamo, vediamo dai Kena, dai guarda bene concentra, senti l'energia della montagna bellissimo attingi al suo potere salve, ciao Chica Games, ciao, benvenuta abbiamo appena iniziato un nuovo episodio di Kena bellissimo ragazzi, guardate ottimo, quindi ora avremo anche l'arco funge anche da arco il nostro bastone, ottimo bellissimo wow la paura di taro, dimmi una corruzione presso la casa di Russo provocare l'arco su questi bersaglio quando è finito sentiti libero di esercitarti nelle altre stazioni che ho preparato ah, quindi ci sono più stazioni perfetto come si usa l'arco, chi lo sa, vedremo ora cerchiamo di capirlo allora tieni premuto L2 per mirare mentre tieni premuto L2 premi e rilascia premi e rilascia R2 per scattare una breccia ok, L2 R2, va bene proviamo si va uno due due tre ok fatto che colpo bene mi piace questo mi piace ok, quindi questo l'abbiamo fatto eeeh ha detto che c'erano altre stazioni quindi andiamo a vedere attenzione c'è un rot andiamo qui si vabbè qui non avevo fatto niente allora ha detto che c'erano altre stazioni quindi queste l'abbiamo fatte andiamo alle altre stazioni ok vediamo un po' vedo se c'è qualcosa no questa è curvatura va bene questo è diciamo che eeeh possiamo fare un viaggio rapido se non sbaglio possiamo spostarci da una parte all'altra con queste varie curvature allora andiamo a vedere perché credo che ci fa fare altri tiri con l'arco facciamoli perché se diciamo che semplice semplice non è vediamo questo cosa vuole dice usarot si ah ok devo prendere questi va bene due tre quattro ole venite a me perfetto sì mi piace questo è stato bellissimo andiamo avanti stavamo dicendo non male ci sono altre sfide su questo picco vabbè le faremo non di preoccupare altra sfida dove sei fatti vedere altre sfide eccolo qua vedete ovunque si teletrasporta come fa dovrei muoverti rapidamente si segui il percorso col pc tutti e sei bersagli prima che scade il tempo quanto tempo abbiamo eh via ok andiamo da qua ok muoviti rapidamente ok una parola muoviti rapidamente non è che è proprio semplice però andiamo dove qua ok fatto fatto dove l'altro è là qua ok ci siamo riusciti eh prima non facevamo quell'altro ragazzi per questo non ci eravamo riusciti perfetto allora quindi questo l'abbiamo fatto eh però ok bel gioco di gambe prova ancora qualche giro e scopri se riesce ad andare ancora più quasi mi piace ok andiamo da qua vicino andiamo da qua andiamo da qua questo è fatto andiamo da qua andrei così non abbiamo tempo andiamo quest'altro qua ok andiamo perfetto ancora e ci siamo allora quindi questi li abbiamo fatti tutti ora vediamo di fare questo qua a qualcosa servirà di nuovo ah cosa ci ha aperto vediamo ecco qua qui possiamo levare la corruzione ragazzi se siamo i rot vediamo dove era che doveva liberare la corruzione ah si eh era là vicino andiamo subito eh usarlo con noi non è semplice però ci riusciremo ok andiamo di là ok gira ecco qua interagisci ottimo allora poi vediamo un po' vediamo un po' e lì cosa ci andiamo un'altra sfida vediamo un po' stiamo ovunque parliamo per iniziare spara all'uccellottero ok mira velocemente colpisci tutti al volo ok allora sarà questo un due e tre ragazzi ci siamo riusciti alla grande è stato notevole grazie grazie piantilissimo sempre che tu abbia assimilato questo esercizio grazie quindi intanto ti chiamo anche questo mi piace mi piace sempre di più ragazzi questo gioco non so non so a voi a me piace troppo ok grande rotte vieni con me carissimo 19 vi ricordo che siamo già abbiamo superato il secondo livello siamo a livello 3 allora vediamo se c'è da liberare qualche rot andiamo qua qui abbiamo già fatto due cos'è questo ragazzi usa rotte ah questo è più difficile vediamo se ci torniamo la prossima ok e guarda aspetta per poco non rifacciamo non è un problema ok 1 e guardate così li dobbiamo fare in aria ok 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 arrivederci e grazie va bene anche questo è stato fatto parliamo col simbaticone qui dovrai fare in modo che ogni colpo vada a segno l'ho fatto distruggi tutti i bestelli per avanzare ci sono 3 livelli di difficoltà ah ok vabbè ripetiamolo non è un problema poi passiamo alla ok e guarda ok 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 vediamo qua 1 2 nooo ce l'ho riuscita 3 livelli di difficoltà facile facile non è però 1 2 3 4 5 6 7 8 ciao e questo l'abbiamo fatto perfetto abbiamo fatto ok l'ultimo livello di difficoltà ragazzi che è una grande dai mongrash salve e benvenuto dai mongrash a terzo livello di difficoltà ehi vieni qua vieni qua e guardalo qua vieni qua dove siete venite 1 2 3 3 dai nooo ok sono tre livelli di difficoltà 1 2 semplice semplice non è questo è più difficile vero ragazzi come livello di difficoltà è molto più difficile però forse riusciamo vediamo dimmi di sì ci siamo riusciti dimmi di sì ah qua erano uno di due 1 2 2 e guarda no 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 piglielo 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 e dai c'eravamo riusciti ragazzi è l'ultimo livello di difficoltà questo e poi andiamo a recuperare la reliquia più che altro ci da bonus per questo lo voglio fare e non c'è modo migliore che farli live no? ok andiamo da qua questo 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 vai vai ok preso e vai ragazzi maschera di ruso nuovo cappello rotto disponibile ve l'ho detto ragazzi ve l'ho detto che ci riuscivamo e avevamo un altro bonus grazie direttore 6 6 6 6 troppi colpi consumeranno energia del bastone servirà tempo a fin che si carichi va bene abbiamo fatto siamo stati grandi come dice il buon diamond crash ora vediamo qui i cappelli vediamo un altro cappello carissimi c'è l'oskero si nuovo cappello rotto disponibile allora questo lo pigliamo poi andiamo avanti nido d'uccello lo prendiamo maschera di ruso lo prendiamo e gli altri non ce ne sono più indossacappelli diciamo che si si volevamo prenderne altri però diciamo che sono questi andiamo a me andiamo quindi stavamo dicendo ragazzi ah bellissimo quindi se io salto e faccio così si ferma anche il tempo bellissimo questo episodio diventa sempre più bello andiamo allora demon crash che ne pensi di questo gioco a questo lo abbiamo fatto vediamo un po cosa dice il signorino qua caro manifestazione della corruzione pattuglia nel sentiero il tuo arco dovrebbe aiutarti a liberare il passaggio va bene ok quindi dobbiamo andare da qua però prima di andare da qua voglio prendere delle cose un attimo ragazzi perché allora vediamo se c'è se abbiamo fatto tutto ok no questo l'ho fatto abbiamo preso tutto non so voglio vedere no da qua vediamo se abbiamo fatto tutto ok allora vediamo un po vediamo un po no si qua avevo fatto tutto si possiamo andare ragazzi direi che si può andare va bene va bene attenzione c'era qualcosa che non avevo fatto avete visto e me ne sono accorto si va da qua tieni qua perfetto ora ci siamo quindi stavamo dicendo ero da qua sono salite sono andati da qua questi scendi ok andate e mangiate rot mangiate mangiate nutritevi vi servirà qui cosa c'è l'abbiamo visto prima che ci sono stato ok eeeh si andiamo da qua dobbiamo andare da qua quindi ok mmm quindi andiamo da qua facciamo questo giro questo era quando abbiamo fatto la prova della velocità si andiamo quindi stavamo dicendo manifestazioni ben andiamo ok quindi arrivederci ciao cosa vuoi non mi toccare dammi lontano via d'acqua ok e fin qua ci diamo siamo qua eeeh chi è questo mi si permette quel coso brutto la so via d'acqua e che ti venga a prendere non ti preoccupare vieni qua dove sei fatti vedere ciao ma vai a lavorare via d'acqua via d'acqua ok poi gli altri sono lì carissimo ciao hai paura eh vieni qua fatti vedere dove sei quando ti troverò ah ecco sei venuto qua e ora creperai da qua ciao poi stavamo dicendo tu vai via mi stai tanto pastiglio questi non hanno capito ancora questo nello ok quindi quindi dove sono eccolo là è andato via verrà qua verrà qua no è là ah mi sa che devo caricarlo ok va bene vediamo un po' dov'è ciao poi ecco qua quindi mi rotto ci siete andiamo allora vediamo un po' ah non dobbiamo usare i rotti vabbè siamo i rotti ciao e abbiamo levato la corruzione qua mi piace ok quindi alziamo questo siamo i rotti eccoci qua vediamo se no nulla coraggio ne abbiamo abbastanza perfetto allora qui siamo scesi vediamo un po' vediamo un po' allora lì va bene quindi cade cosa fa non lo so ecco qua siamo tranquilli vediamo Kena ok quindi ora cosa si fa lui è arrivato qua vediamo un po' qua cosa c'è allora è un po' così voglio vedere un attimo cosa c'è qua oplala cosa c'è ok questo sarebbe ah bellissimo ok quindi qui cosa si fa riposa qui e concentrati per aumentare in modo permanente della tua salute massima ah ok quindi medita vediamo un po' cosa succede aumentiamo la salute massima quindi dovrebbe aumentare la nostra barra di salute vediamo buono no meditiamo ancora ragazzi meditiamo su ciò che dobbiamo fare Kena medita medita Kena ok meditiamo di nuovo vediamo se aumentiamo ancora un po' la salute no niente va beh ci ho provato ragazzi ci ho provato però no no va bene ti puoi rialzare Kena grazie è stato un piacere è stato bello vederti meditare andiamo ok quindi allora vediamo faccio così faccio così opla lì ok 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 si va lì perfetto mi piace questa cosa facciamo così e si blocca il tempo ottimo proprio curvatura di nuovo ok ok la paura di taro quindi stiamo andando da questa parte credo si dobbiamo andare qui a proposito ma noi possiamo aumentare possiamo fare qualche potenziamento vediamo allora questo fiocco ok sbloccato va bene si potenziamento disponibile 150 allora premi R3 mentre tendi l'arco per rallentare brevemente il tempo questo invece potenziamento disponibile premi R1 dopo la parata per eseguire un attacco rotante vediamo un po' ok questo non l'avevamo sbloccato però come mai neanche questo 200 questo conto è 150 questo qui invece saluto e scudo più la forza dello scudo di canna viene migliorata qui invece premi per rallentare brevemente il tempo allora intanto potenzio questo contatto attacco parato perfetto premi R1 dopo la parata per eseguire un attacco rotante ok va bene questo lo sblocchiamo certo questo vediamo questo qui invece carica ok il livello rotto 3 serve quindi ancora non si può fare va bene quindi qui è l'arco ok andiamo caro dimmi tutto questo sentiero interrotto conduce a casa mia la corruzione è potente fai attenzione che no problem scusa c'è un attimo vieni qui ora si può andare ok ok questo è un po' niente vediamo un po' ok ok si va qua bellissimo mi piace questa cosa adesso mentre scendiamo andiamo qui apriamo questo qui dobbiamo sempre fare attenzione perché vedete è sempre meglio non lasciare nulla dietro allora vediamo un po' stavamo scendendo da qua andiamo a scendere a questo punto anche perché non credo che ci sia altro da fare qui no qua no quindi scendiamo da qua mi fa un piacere piacere si va da qua qua non c'è nulla ok eccoci qua siamo arrivati siamo arrivati alla casa di ruso perfetto un po' valla grande carissimo ah eccoli qua questi simpaticoni della serie gli stanno dando molto fastidio e ora li mando a nanna ok poi quando mi danno così fastidio non li sopporto più ok poi andiamo avanti ce ne sono ancora vabbè non vi preoccupate ora ora mi hanno rossi è stato davvero nel vero senso della parola mi stanno dando molto fastidio quindi ciao l'avevo preso e guarda ciao ciao ok ciao dove è l'altro? maledizione esci fuori dove sei? fatti vedere ok poi c'è qualcun altro? ahia altro boss ragazzi perfetto prima abbiamo un germoglio poi un altro che non mi ricordo cavalieri di legno via 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 ah poi è grave la soluzione via via qua bene ah qua dobbiamo stare attenti eh si vabbè ok lo dobbiamo prendere però diciamo non è semplicemente questo vabbè ma non è semplicemente questo vabbè ok Allora Vai vai Kena Sto conoscendo non ti sa Ok Rotti Ok No come devo fare qua Vediamo se mi ricordo Ok Allora Non mi ricordo Una cosa Potenzia Non mi ricordo come era L'attacco Ciao Vabbè lo battiamo diversamente Ho capito Ok via da qua Dai 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 che è Stiamo attenti eh Ok Ok Via 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 Perfetto Dai dai Kena dai Usiamo i rotto ora Fra poco li usiamo Di nuovo Eh questo è più difficile da battere No Via 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 da qua Un po' forte sì Questo sì Jessica Non è semplice da battere Ok 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 Ma io lo batto Un principio qui Andiamo da qua Di nuovo Ok, via, 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 via Facciamo i rocci Vai Vai Perfetto A noi due pollo, vieni qua, ma ti so Via da qua Ah, sì Vieni qua Taccino che non sei altro Vieni qua Cavalieri legni, ti vuoi spostare dei brutti 5 minuti Vieni qua Via, 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 via Ah, mi sa che era... potevo fare così Doppio salto e doppio Ok, ok Mi sono ricordato una cosa, ragazzi Ecco qua Cavaliere di legno, vieni, vieni Vieni, pollo di legno No, cavaliere di legno Tu sei un pollo di legno Siamo qua Rot A me Non ha capito questo Chi comanda Via da qua Via, 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 via Affrontiamolo, che è Vediamo se... Se prendo questo Bellissimo Ok, domani, sì Via da qua Via, 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 via Dai, abbiamo quasi battuto, dai Dai Dai, dobbiamo stare a prendere ora Via, via Via, via Via da qua Dov'è? Ciao Ah, non c'è... ci ha pure schivato, grande Eh, non è semplice, ragazzi A casa Vai a casa Parla ora, pollo Cavaliere di legno L'hanno chiamato Ma per piacere Come vedete L'abbiamo battuto C'è voluto un po' C'è voluto un po' Devo dire la verità È stato... Dicevo che è stato un osso duro però Ok Andiamo Andatemi e bei rotto E adesso Dulcesi in bund Tadà Ah, che bello Che bello, ragazzi Sì Sì Abbiamo liberato la casa di Ruso Ecco qui Andiamo subito lì Ok Perfetto Questa è una delle religioni intaro se non sbaglio Vediamo un po' Eh sì, ragazzi Sì Credo di sì Vediamoci lo dirà, credo Vediamo un po' Bene Ho fatto quel coltello per Taro quando ero ragazzo Eh sì, ero ragazzo Che grafica che tiene comunque, eh lo so Lo so, lo so Lo so, demon gracia, è splendido Amava questi boss Io ho fatto il mio meglio per insegnargli le antiche Tecniche Sì Eh sì, hai ragione, demon gracia, è particolare Scusa se ti rispondo a tratti ma sto anche leggendo I dialoghi, eh Consumato dai vuoi del nostro viaggio Non ho potuto dedicarmi a Taro quando aveva più bisogno di me Eh sì, non ti preoccupare Non ti preoccupare Non ti preoccupare Spero che possiamo portargli pace E quindi portargli pace E quindi, portargli pace E quindi credo che, eh Non è... Non è vivo Taro Possibile Non lo so, non vorrei dire una sciocchezza ragazzi Sto cercando di capire Perché Portargli pace Spirito di Taro Ah, vediamo Altre reliquie sono nascoste nella corruzione della foresta dimenticata Ok, quindi c'è ancora un bel po' di strada da fare per le altre reliquie Ti aspetterò lì Quindi dobbiamo andare alla foresta dimenticata Le reliquie scoperta Coltello di Taro Ottimo La paura di Taro troppo guadagnato Foresta dimenticata Incontra l'uso nella foresta dimenticata Sì, abbiamo trovato altri rot Perfetto Non è un problema Ok, parla Altre reliquie sono nascoste nella corruzione della foresta dimenticata Ti aspetterò lì Eh, vabbè Ci vediamo là Allora Vediamo un po' Cosa c'è qua Allora, questo l'avevo visto prima Quindi vado Perché lì c'è corruzione, quindi Ok Ah Usiamo i rot Ecco, c'è un po' di onde è bello, ragazzi Olè E questo l'abbiamo fatto Poi Vediamo se c'è ancora corruzione Non credo qui Qua non credo, vediamo un po' Ok Ok Questa cosa serve? Ok 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 No Questo è così Allora Allora, vediamo un po' Se facciamo questo Cosa succede? Cosa servirà? Chi lo sa Sarà qualche cosa secondaria, credo, ragazzi Voglio provare a vedere Voglio provare a vedere Ma poi ci torniamo Eh Che a qualcosa Servirà qualcosa Forse che ancora non sappiamo Ah Perfetto Sì, 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 sì Ok 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 Vediamo un po' cosa serve Vediamo un po' Ok, facciamo così, guardate Ok Allora Vediamo un po' Levo la qua A cosa servirà? Ok, va là Ok Ok Perché mi porta là Vediamo un po' Qualcosa c'è Per portarmi qua C'è qualcosa Ok, andiamo Ok Allora Boh Non so Non so, ragazzi Attenzione Cos'è questo? Cosa serve questo? Sì, questo mi fa andare lì Ok Ok Qui c'è corruzione Vediamo se possiamo portarla Ah no, però Non posso Eh, come posso liberarla questa? Vieni Vieni Ah, non posso capire? Allora Gira sbattivi Rilascia No Ehm Qui non so come levarla Vabbè In qualche modo si farà Vedremo come Secondo me Vediamo se riusciamo così Prima non credo No Ok Allora Vediamo qua Vediamo se Possiamo levarla così, ragazzi Vi faccio vedere io Se non si deve andare da là E da là Si può prendere Come abbiamo fatto prima Come abbiamo fatto prima Uno di questi Attenzione Vediamo se Se no se da qua si può prendere qualcosa Ma non credo No Per qui torneremo indietro Quindi va bene Ora entriamo nella casa di Taro, ragazzi Però voglio capire Se c'è qualche rozzo da liberare Andiamo Dobbiamo andare in una foresta dimenticata Tanto ci possiamo arrivare benissimo Con il Qui dobbiamo andare secondo me, ragazzi Ok Allora vediamo un po' Ma non è semplice arrivarci Vediamo però se si può fare qualcosa No Vabbè Andiamo, ragazzi Poi vediamo come levare la corruzione qua Un modo ci sarà comunque Per forza ci deve essere Questo in mente l'abbiamo liberato Allora Andiamo Ok Vediamo così Ok L'abbiamo preso Facciamo anche questo Ok L'abbiamo preso Entriamo Aspetta Aspetta Qua Ok Qui Usiamo i rot Ok Andiamo Ok Ok Brot Anche qui Ho visto Mangiate Andiamo qua Abbiamo questo Qui non si può interagire Nio Nulla Ok Usciamo da qua Allora Allora Vediamo un po' Da qui pure Potevamo vedere se non sbaglio No? Qua si scivola credo Quindi No Ok Ok Questa La mettiamo qua Sposto oggetto Olè Vediamo se c'è corruzione da queste parti No, da qua non ci possiamo andare perché qua si scivola Allora Il denudo è proprio provarci Questo l'abbiamo fatto prima Possibile Vabbè poi qua ci torneremo comunque ragazzi C'erano tutte queste cose da fare per levare pure la corruzione e quant'altro Ok Adesso però Rimaniamo con la nostra missione principale Allora Questo l'abbiamo fatto Andiamo qua Allora Vediamo un po' Noi dobbiamo arrivare Qui Foresta è dimenticata Allora Qui Albero di Taro Gola Allora Cerchiamo di pensare Gola Vabbè la distanza più o meno vogliamo che è quella Io direi però di andare qui Possibile Oppure andiamo nella cola Andiamo qua va Sì Andiamo Ok Ok Allora Qui se ben ricordo c'era Quello Ok Prima era chiuso Ora ci possiamo arrivare Vediamo se Riusciamo Di andare più vicino Ok Si va Perfetto Rotti A me Rotti A me Rotti Perfetto Perfetto Bellissimo Eppure Dobbiamo arrivare Poi dobbiamo tornare dietro ragazzi Dobbiamo tornare con questi Tanti cicli Lo possiamo Bellissimo Guarda dai perfetto Bellissimo Quando si va in atto è bellissimo Ok Tanto tramite la curvatura possiamo spostarci a una parte all'altra Allora Vediamo un po' Andiamo da qua Vediamo se Ricordiamo dove dobbiamo andare Dobbiamo andare Sono Sono facili i trofei Ma alcuni si dai mongrash Altri Sinceramente ancora non lo so Il gioco ti posso dire che è molto bello I trofei Alcuni sono semplici Dico la verità Altri ancora non lo so Allora cerchiamo di capire dove dobbiamo andare No mi sto allontanando Quindi lo platinerai? Eeeh Si Si voglio platinarlo Non so Ecco appunto Demongrash Se riuscirò A platinarlo Così durante le live di seguito Se ne servirà Se servirà Qualche episodio live extra Perché comunque Voglio anche concentrarmi sulla storia Quindi Può darsi che faremo anche qualche episodio sempre live extra Ma lo voglio platinare Lo voglio platinare Demongrash Lo voglio platinare perché mi piace davvero tanto Ed è davvero davvero un gran bel gioco ragazzi Allora vediamo un po' Dovrebbe essere da qua Stiamo andando bene Credo di si Dovremmo andare di qua Vediamo se È la strada giusta Ma credo di si Dobbiamo andare da qua Ecco si Si va da qua Ecco qua Non parte male Che era Aspetami Allora andiamo da qua Andiamo da qua È troppo bello Vediamo se riusciamo Alla corruzione No niente Questo no Naturalmente Andiamo da qua Andiamo da qua Sentite anche La musica Bellissima ragazzi Allora Vediamo Questo qua Finalmente Possiamo Ecco qua Tutti a noi Andiamo da là Voglio vedere un attimo da qua Se c'era Ah Eccoci qua Però io credo che la strada sia questa È possibile Credo di si Però prima di andare da qua Voglio vedere se c'era qualcosa Eh ma qui no Ancora pieno di corruzione Ok Andiamo Cerchiamo di trovare Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Attenzione ho visto una cosa ragazzi Scusate Forse già l'abbiamo fatto Si Allora Per aprire quella Come si fa Ah Ho visto quello la Quindi io credo che Eh Facciamo così Ok così Facciamo così Ok Facciamo così E ora? Cosa succede? Qualcosa succederà? Vediamo Ah ok Si apre proprio È proprio la strada Va bene Vediamo un po' Vediamo un po' Ragazzi Dove siamo? Foresta dimenticata ragazzi Siamo arrivate la foresta dimenticata Bellissimo Bellissimo Chi ha fatto questo è stato dimenticato da tempo ma il frutto del suo lavoro rimane vegliando sulla foresta come antichi guardiani Lo spirito di Taro ha corrotti i santuari è sigillato l'ingresso dell'albero Ah quindi allora Lo spirito di Taro ha corrotti i santuari è sigillato l'ingresso dell'albero guardiano Scusate quindi posso sentire la presenza di Taro Occhio Ho segnato le posizioni dei santuari sulla tua mappa Ok Grazie Russo Mi invegnerò a ripulire i santuari Ok L'amore di Taro ripristina gli antichi santuari per aprire l'albero guardiano Ok Allora ragazzi innanzitutto Vediamo un attimo qua Quindi anche questa è stata già sbloccata Quindi ora dobbiamo Dobbiamo fare prossimamente Diciamo la prossima live Ripristina i santuari dell'acqua Quello della pesca Il santuario del bosco E il santuario dell'albero di Dio Ok Quindi dobbiamo Ripristinare questi santuari E poi Dobbiamo andare Qui L'amore di Taro Ripristinare gli antichi santuari Perfetto Va bene ragazzi Quindi il gioco si fa ancora più avvincente Stiamo entrando diciamo credo nel vivo Va bene Va bene Intanto andiamo sui potenziamenti Vediamo che qualcosa già si poteva fare Ma l'abbiamo detto con 95 150 Qui possiamo aumentare però lo scudo Io direi di potenziare prima questo ragazzi Questo invece è Karma aggiuntivo richiesto Inizio il combattimento con un'azione rotta disponibile Questo possiamo fare dopo Allora intanto prendo questo Anche se Questo ci farebbe un bel po' comodo Che ferma il tempo Però Lo scudo Ci serve E anche questo è andato Quindi Quindi Più livelli Raggiungiamo Liberanti rot E Più abilità ci da Perché prima siamo partiti Che avevamo solo queste due Va bene Va bene Va bene Ok Quindi abbiamo anche l'arco Si Prossimamente Faremo questo potenziamento Quando sbloccheremo Quindi Curvatura abbiamo visto che ci fa muovere da una parte all'altra Velocemente Cioè C'eravamo arrivati Diciamo Allora Facciamo così E tiriamo questi